Doressa, prima parlando si è parlato di un possibile sequestro a scopo di estorsione è stata detta un'ipotesi verosimile, così? Sì, come ho detto prima è un'ipotesi verosimile, ma non è detto che sia l'ipotesi giusta. Noi stiamo indagando su tutte le possibili ipotesi, questa è un'ipotesi verosimile. Chi ha preso la barra di Mike Buongiorno si è già fatto l'ipo? Questa domanda non rispondo, le dico no e poi naturalmente anche se fosse diversamente non potrei dirlo. Quante persone sono secondo voi? Tre, quattro, cinque? Anche questa è un'ipotesi, verosimilmente sono più di una persona perché la barra era pesante, ha fatto un tratto verosimilmente a spalla, molto impegnativo per una persona sola, quindi verosimilmente sono quattro, cinque, sei, ma possono essere anche due. L'ultima domanda, qual è l'ipotesi di reato per cui procede la procura? Questa domanda non rispondo perché naturalmente questo poi comporta che si abbia già un'idea di quella che è la pista che stiamo seguendo. Un sequestro? No, grazie.